Questo è il messaggio arrivato dal futuro, come è ben evidenziato dalla data. Secondo l'unica interpretazione che potevo fare era indicare la data attraverso i numeri dell'ora, per cui data ora, e fa anzi 13.04.2014, oggi 13.04.2014 è il giorno di questo SMS che ha come mittente L capovolta, Q e quell'altro segnetto, che al suo interno vede appunto questa Q e questa è la data. Cosa abbia da dire questo messaggio? Non lo so. Quale significato possa avere? Senz'altro ce l'ha, ma non è conosciuto. Strano, come tante cose strane che succedono qua dentro, l'importante è che si ha un auspicio positivo, ma senz'altro arriva dalla dimensione superiore, oltre questa realtà.